Le poltrone sono vuote e così rischiano di restare a lungo. Lo spettro della vendita all'asta nonostante smentite rassicurazioni si aggira ancora nella platea silenziosa di ciò che oggi è il trianon. La data dell'eventuale vendita, il 17 giugno, intanto si avvicina e quello che fu definito il teatro del popolo, vista la sua presenza nel cuore del quartiere di Forcella e a un passo dal baratro. La storica struttura partecipata da regione e provincia sorta più di un secolo fa ha pure già un prezzo, 3 milioni e 375 mila euro, il costo della cultura che a Napoli si svende tra le proteste dei lavoratori o si svende come spiega il segretario della CGL Partenopea Gianluca Daniele che legge nel disinteresse di Palazzo Santa Lucia la volontà di favorire i privati. C'è dietro un disegno perché l'abbiamo riscontrato in tante altre scelte della regione campania rispetto alla cultura, c'è quello di favorire i privati perché la verità c'è anche questo dal punto di vista politico, per cui io credo che noi non solo stiamo facendo una battaglia a difesa del lavoro e dei lavoratori ma facciamo una battaglia a difesa della cultura della città di Napoli. Il presente oggi racconta di lavoratori senza stipendio da due mesi ma anche di artisti che non sono stati pagati. Fuori al teatro c'è chi rimpiange il recente passato quando sotto la direzione artistica di Nino D'Angelo in carica fino al 2010 c'erano circa 4 mila abbonati, una cifra che stride con la situazione attuale dove di abbonati non ce ne sono e non c'è nemmeno più l'agibilità di esercizio. Ci sono però i cittadini fuori al teatro, il popolo che quel teatro lo sente suo e chi ha risposto alla raccolta di firme che il membro della Commissione Cultura alla Camera, Luisa Bossa, si è fatta carico di portare direttamente tra le mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Noi chiederemo al Presidente Napolitano che conosce Napoli, conosce gli anni belli del Trianon, conosce tutto di questa città di farsi carico di questa situazione. Non è soltanto la storia di nuovi impiegati, non è soltanto la storia di un teatro che va all'asta, è la storia di questo quartiere, di questo teatro del popolo come è scritto qui che rappresenta molto, rappresenta tutto per la vivibilità. L'altro D'Angelo, Maurizio, attuale Presidente del CdA, è invece additato dai lavoratori come il primo imputato della disfatta del Trianon. Per questo motivo le organizzazioni sindacali, come spiega il segretario regionale della Wilcom Massimo Taglialatela. Silenzio assoluto da parte delle istituzioni coinvolte, silenzio assoluto da parte del Consiglio di Amministrazione. Eppure io penso che basterebbe un atto di responsabilità procedere all'azzeramento dell'intero Consiglio di Amministrazione, farsi carico ovviamente di un bene comune, quale è il teatro Trianon, che negli anni è stato costruito proprio per essere un riferimento di legalità in un quartiere estremamente difficile.